Amici degli spettatori ci troviamo in compagnia di Enzo Cragnaniello, questa sera qui a Napoli prima e dopo, ovviamente una grande emozione proprio in uno scenario straordinario di quello che è ovviamente la cultura classica napoletana, finalmente si parla proprio in tutta Italia quello che è la canzone classica napoletana e quello che è l'essenza della nostra cultura ma prima parlava di questa cosa, diceva che comunque Napoli è il cuore dell'Italia se non del pianeta, perché qua c'è una grande passione, un grande sentimento c'è anche una grande religiosità, spesso sommersa però quando si risvegliano i cosi ricordano di comunque appartenere a delle radici di grandissimo spessore e chiaramente dalle canzoni classiche napoletane non può che uscire una certa spiritualità se vogliamo, che poi i poeti erano persone elevate per scrivere tre parole e racchiudevano sono un discorso universale, infatti sono canzoni perenne, durano da centinaia di anni evidentemente stiamo di fronte a una realtà potentissima che è Napoli come è bella la città così è la sua anima Il pezzo che ovviamente proponi? Stasera proponiamo un pezzo, cantiamo io e Rais, il cantante degli Alma Megret Un pezzo nuovo del disco nuovo, Misteriosamente si chiama Sempre napoletano? Tutti napoletano Grazie Prego